Exoratics, oggi scopriremo insieme una super auto perfetta per la città. Ovviamente stiamo parlando di Smart 4TU, 1000 di cilindrata, 61 cavalli nel suo allestimento Youngster. Alimentazione benzina immatricolata nel 2016, ha percorso poco più di 70.000 km in un'auto che è veramente piccina 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 perché stiamo parlando di una lunghezza di soli 2,70 metri, quindi veramente è proprio l'auto super parcheggiabile ma che non manca di classe, di eleganza e di dettagli molto interessanti come i nostri cerchi che sono in lega, neri, da 15 pollici, 165-65. A questo punto entriamo subito, scopriamo che l'angolo di apertura delle portiere è veramente molto 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 ampio. Io salgo dall'altra parte così vedete quanto sia facile accedere a bordo dell'abitacolo, ecco qui, e lo spazio a disposizione è veramente tantissimo perché siamo solo in due passeggeri, abbiamo il bagagliaio qui dietro, ovviamente non è super capiente però arriviamo a un 200-250 litri di capienza e dallo sterzo che è a tre razze possiamo ovviamente gestire tutti i comandi, tra cui ad esempio abbiamo il limitatore di velocità, abbiamo il quadro strumenti in digitale con il tachimetro che ha questa forma rotondeggiante e non mancano tutti i dettagli a riprendere il bianco della carrozzeria, molto bello. Il cambio è manuale a cinque rapporti, manuale e anche il freno di stazionamento. A questo punto usciamo mentre la nostra Sara fa l'ultima panoramica di Smart4Chu, Smart4Chu, io vi ricordo la cilindrata è un 1000 di cilindrata a 61 cavalli, Youngster, alimentazione e benzina, immatricolata nel 2016. Non vi resta che correre sul nostro sito rattix.com. Exo?